Siamo alla domanda numero 161 del Catechismo di San Pio X e ci troviamo nella parte seconda dove si parla dei comandamenti di Dio, dei precetti della Chiesa e poi delle virtù, ossia morale cristiana. La domanda 161 suona così. Che cosa sono i comandamenti di Dio? I comandamenti di Dio o Decalogo sono le leggi morali che Dio nel Vecchio Testamento diede a Mosè sul monte Sinai e Gesù Cristo perfezionò nel Nuovo. Vedete tutto quello che c'è scritto nel Decalogo è qualcosa a cui l'uomo già arriva solo con la ragione. Tuttavia Dio ha voluto dare diciamo così l'imprimatur per far capire che non è qualcosa così su cui si può eccepire ma che lui stesso vuole che noi compiamo certe cose e che ne evitiamo delle altre. Vorrei ricordarvi che il primo comandamento è io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me e quindi poi viene tutto il seguito. Tutto il seguito diventa dal primo comandamento. Se Dio è Dio e Dio ci chiede qualche cosa lo chiede non perché è un capriccio, non perché è invidioso di noi ma perché vuole il nostro bene perché è il nostro creatore, ci ha dato tutto, ci ha dato l'esistenza, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato tutto. Cosa può pretendere da noi? L'unica cosa che pretende, che desidera con tutto il cuore ma non la pretende con la forza, ma la pretende con la forza dell'amore è l'amore. Come un amante desidera l'amore della sua amata e come può ottenerlo amandola, amandola e ancora amandola. La forza non serve, serve l'amore e se l'amore di questo amante non arriva a suscitare una scintilla nell'amata l'amante soffrirà, soffrirà terribilmente e in un certo senso questa è la sofferenza di Dio, così possiamo dire Dio che la filosofia ci dice che è impassibile, cioè che non può soffrire, ma in un certo senso noi vediamo che soffre invece e soffre terribilmente. Volete vedere dove? Guardate la croce di Cristo, lì vedete che cos'è l'amore di Dio, un amore che è disposto a soffrire così orrendamente per poterci salvare, per pagare per i nostri peccati, per redimerci, per mostrarci visibilmente fino a che punto arriva il suo amore. Se anche davanti a questo noi induriamo il nostro cuore, siamo freddi in padella, ma no, ma noi vogliamo l'amore di Dio perché noi sappiamo che incontrarsi con Lui, seguire i Suoi comandamenti è la via della salvezza e questi comandamenti, questi comandamenti che ci sono nel Vecchio Testamento, Gesù li ha perfezionati sul Monte Sinai e li ha resi ancora più brevi se vogliamo, ancora più semplici e ancora più amabili, ma lo veremo più avanti. Che cosa sono i comandamenti di Dio? I comandamenti di Dio o Decalogo sono le leggi morali che Dio nel Vecchio Testamento diede a Mosè sul Monte Sinai e Gesù perfezionò nell'uovo.